Se il dato politico, cosa pensa di questo ritorno di Silvio Berlusconi? Ma innanzitutto vedendo quella famiglia, con l'albero di Natale, con una famiglia media, questo paese deve riscoprire la voglia di farcela, la voglia di lottare e la gioia di vivere. Perché è un paese depresso e l'austerità da sola non fa...